Senza Vitolo e Manzo, due dei protagonisti in rosso-nero delle ultime settimane, ma con la consapevolezza che dei due calciatori si possa non sentire la mancanza per la partita di Isola Capo Rizzuto di domenica prossima. Troppo ampio il divario tecnico tra le due formazioni per immaginare una nocerina non vincente in questo spicchio di terra calabrese famoso per il turismo e non certo per il calcio. La nocerina di Morgia eviterà certamente le distrazioni perché il clima non è ancora quello ideale per una puntatina nelle splendide acque crotonesi. Ci si potrà concentrare esclusivamente sulla partita non semplice soltanto perché la si potrebbe prendere sotto gamba. Del resto i numeri dicono che con l'avvento di Giovanni Pisano in panchina, l'ex bomber della Salernitana ai tempi di Dario Rossi, i calabresi hanno conquistato una serie di risultati anche inattesi. La retrocessione è quasi certa, i giallorossi devono recuperare ben nove punti alla terz'ultima in classifica ma intanto hanno battuto domenica la San Cataldese, avevano imposto il pareggio in trasferta al Palazzolo. Insomma da evitare ogni forma di pressappochismo. La nocerina dovrà mettere subito il risultato al sicuro e pensare alla prossima tappa dell'altro turno, Bebbium complicata contro la San Cataldese che all'andata batte Cavallaro e compagni per 2 a 1. Nell'altro girone, il gruppo H, c'è curiosità per vedere all'opera la cavese post sconfitta con il Cerignola. Sette punti da recuperare dalla capolista potenza sono ormai tanti, detto che gli scontri diretti sono già stati disputati e persi dai metelliani. L'allenatore Bitetto ha lavorato soprattutto dal punto di vista psicologico in questi giorni e da San Severo si attende a una reazione quantomeno emotiva da parte del gruppo. Del resto i Lugani hanno domenica una delle ultime tappe complicate della stagione, proprio in quel di Cerignola. Insomma una sconfitta dei Lugani e un concomitante successo degli Aquilotti riporterebbe la distanza a 4 punti, riaprendo in parte i giochi. Insomma una sconfitta dei Lugani e un concomitante successo degli altri